Nella società capitalistica, dice Marx, lo scontro tra le classi si riduce fondamentalmente ad uno scontro tra la classe borghese, che qui vediamo ben rappresentata da questo quadro di Gustave Caillebotte, e la classe proletaria, che anche qui è splendidamente rappresentata da questo famoso quadro di Pellizza da Volpedo, che ormai conosciamo piuttosto bene. Come è nata la borghesia? La nascita della borghesia è descritta assai bene da Marx in un passo famoso del Manifesto. La borghesia nasce dai servi della gleba, che una volta fuggiti in città, finiscono per costituire il popolo minuto, quello che si occupa dei lavori più terribili, più difficili, anche più pericolosi e più sfiancanti. Si sviluppa, dopo le grandi scoperte geografiche moderne, in particolare con la diffusione dei commerci e dell'industria e con il superamento, nel corso del Settecento, del sistema corporativo e poi con la rivoluzione industriale, si afferma la borghesia moderna. Quindi i servi della gleba, che vivevano in campagna sotto il diretto controllo del dominus, alcuni riescono a fuggire, si rifugiano nella città, l'aria della città rende liberi, si diceva nel Medioevo. Qui vanno a formare il popolo minuto, cioè il popolo dei lavoranti adibiti ai lavori più sfiancanti, come dicevamo prima. Si potenzia e si afferma come classe durante il periodo della diffusione dei commerci, soprattutto dei commerci transoceanici, con la scoperta dell'America e con l'incremento dei traffici verso l'Asia. La borghesia, al contrario di quello che si crede a proposito delle cose dette da Marx, la borghesia viene descritta da Marx come una classe estremamente importante, decisiva e rivoluzionaria. Cerchiamo di capire perché. Perché, primo, la borghesia svolge una funzione demistificante, cioè toglie tutti i veli di mistero e svela che dietro ogni realtà spirituale, dietro tutte quelle cose che cantano i romanzi o di cui si parla nelle fedi religiose, ci sono invece dei precisi interessi materiali che muovono le persone e che le spingono a fare o a non fare. In secondo luogo, è rivoluzionaria perché tende a rivoluzionare continuamente tutto il sistema produttivo, inventando cose nuove dal punto di vista tecnologico e poi applicandole alla produzione allo scopo di rendere più efficiente la produzione e quindi più vantaggiosa per se stessa. In terzo luogo è rivoluzionaria perché ha creato un sistema mondiale, un sistema economico mondiale, sistema di commerci, di trasferimenti di beni e di lavoro che ha messo a disposizione dell'uomo delle forze produttive che non si erano mai viste. La borghesia, dice Marx, non ha salvato nessun altro legame fra le singole persone che non sia il nudo interesse. Il crudo rendiconto, ha dissolto la dignità personale nel valore di scambio e al posto delle innumerevoli libertà ha affermato l'unica libertà, quella di commerciare, una libertà senza scrupoli. Ha messo fine, come dire, alle illusioni religiose e politiche e ha instaurato lo sfruttamento aperto, senza vergogna, diretto, secco. È una pagina famosissima del manifesto del partito comunista. Tra l'altro, come dicevamo prima, solo la borghesia ha dimostrato che cosa l'attività umana è in grado di produrre perché nel corso del suo neppure centenario dominio di classe, quando Marx scrive 1848 la borghesia è al comando da neppure cent'anni, ha fatto vedere, ha sollevato, ha messo in moto forze produttive più massicce e colossali di quelle prodotte da tutte le altre generazioni che si erano succedute prima di lei. Mi è venuto da pensare a questo proposito, per esempio, ad una delle grandi creazioni borghesi della seconda metà dell'Ottocento, della quale Marx sentì parlare lungamente, che non vide, perché si tratta dell'apertura del canale di Suez tra l'Egitto e la Palestina, 1870, Marx era ancora ben vivo e operativo, quindi certamente ne sentì largamente parlare e si rese conto davvero che la borghesia aveva delle potenzialità da questo punto di vista incredibili. Qual è però il destino della borghesia? Qui recuperando un termine hegeliano possiamo dire che Marx prevede una Aufhebung della borghesia, perché secondo lui l'aspetto più rivoluzionale di questa classe sociale sta nell'aver posto le basi per il suo stesso, attenzione, superamento necessario. La borghesia infatti, secondo Marx, ha sviluppato delle forze produttive che non è più in grado di controllare. Ha creato quindi una classe antitetica rispetto a se stessa che prenderà queste forze evocate dalla classe borghese e le userà contro di essa. Questa classe antitetica, secondo Marx, è il proletariato. Sempre in questa pagina famosa del manifesto, Marx paragona la borghesia a una specie di apprendista stregone che è incapace di controllare le potenze, le gigantesche potenze sotterranee da lui stesso evocate che a questo punto prendono il sopravvento su di lui e in questo caso, come dice Marx, lo sostituiranno al potere. Quindi sarà il proletariato che recepirà il grande lavoro secolare della borghesia e lo userà contro la borghesia stessa per affossarla. Questo è presentato da Marx nel manifesto come una sorta di destino ineluttabile.